E rieccoci qua, questa è l'ultima parte delle miniere, meno male Allora, in pratica qua ci sarà una piccola corsetta con sto binario Siamo nei treni low cost Perché... a parte che... Ah no 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 aspetta questo Ok, se fai... Allora, questo qua E questo qua, è ovvio Ok Ehi, non c'è neanche l'assistenza alle hostess, ma dai E io pago le tasse, vabbè Ok, giustamente i proiettili riescono ad attivare le leve, vabbè, non fa niente Allora Diciamo che qua non dovete per forza ucciderli tutti, basta che vi tenete lontani Ok Non c'è bisogno, vi ripeto, non c'è bisogno di ucciderli tutti Ok, quindi... Poi è bello farli cadere da là Cioè, ma sono coglione, alcuni ti buttano... Non c'è bisogno di ucciderli tutti, non c'è bisogno di ucciderli tutti, non c'è bisogno di ucciderli tutti Parti, parti Mi ritrovo con tutti questi qua Eppure il dottor Salvador Vabbè, i proiettili della maglia un me ce li ho Vabbola Onestamente penso che usare la Broken Butter per il dottor Salvador è un po' inutile Io devo solo allontanarlo, quindi uso la doppietta Ok Cioè, il dottor Salvador è caduto, quell'allà che più scattano è morta subito Vabbè Devo solo farlo cadere, fagli perdere tempo Ma non avete il biglietto Non potete entrare qua Oh, ne ho ammazzati due con un colpo Eh Ce ne sono due ora Cioè, ma stiamo scherzando Vabbè, tanto sta finendo Ok A questo ci penso io, va Non ho voglia di sprecare proiettili inutili Non hai pagato il biglietto Non puoi entrare Oh Cioè Prendono il treno senza il biglietto Dai, 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 dai Dicati Ma uno l'ho ucciso, voi Che coglione Eh, ora che ho preso Eh, ora che le ho uccisi tutte e due Ci vado e come? No, 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 no Ok Siamo nella fase finale Qua dovete tenervi pronti Dai, 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 dai Dai, 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 dai Dai Eh Cioè, vedete che culo che c'ha Leon Cioè, vedete che culo Ma vaffanculo Ma vaffanculo Che se entra qualcuno Spensa che faccia gestire strani Cioè, vedete che culo che c'ha Leon Buh Cioè, saltare peggio di Superman Comunque, qua c'è una specie di glitch del gioco Perché se voi andate da questa parte Vi compare prendere E guardate quanti bei soldini E' una specie di glitch del gioco Diciamo Ecco E' un utilizzo modo per Andare direttamente a 50.000 soldi Papola Hai preso pietra sacrificata Oddio Allora Siccome voglio aumentare l'energia Uso questa qua E vado tranquillo Ok Abbiamo finito qua Ok Non voglio ammazzare a nessuno Io vado direttamente dritto Senza pensieri Hakuna matata Ok Chiusa Offri Offri Io non regalo niente a nessuno E va bene Andiamo nella torre di Pisa Vediamo quanto ho fatto 90% sono scalata a 82 Ma no Ma vaffanculo Comunque qua abbiamo finito Questo livello Che vi posso dire Dai Ci vediamo al prossimo Naturalmente Ciao a tutti